Ciao, io mi chiamo Marzia, sono di Milano, il mio blog si chiama La Taverna degli Arna e oggi preparerò una ricetta crudista, la torta di zucca e khaki senza usare il forno. Ciao a tutti, sono Mapi, del blog Mapi le sue ricette, di Cucinare Meglio. Oggi realizzerò una ricetta, i tortelli alle more, è un piatto della tradizione, però un po' più particolare. Questi tortelli sono realizzati con la pasta all'uovo e il succo di more. Volevo ricordare una cosa, quando eravamo all'inizio, che contravamo tutto, dovevi ancora fare la pasta e tutto, cosa mi hai detto della curcuma? Perché c'è un retroscena. Sì, c'è un retroscena perché in pratica non riuscivo a starci dentro se andavo a comprare la curcuma, il basetto. C'è la deroga. E allora una mia amica mi ha regalato queste spezie l'altra sera tornando da Marrakesh e io l'ho messa in un po' di stagnola e l'ho portata, visto che il mio budget comunque non supera 10 euro. Grazie a tutti.